Musica Buongiorno cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino. Oggi siamo all'Università di Catania, siamo al Palazzo dei Benedettini. Tra qualche minuto inizierà una conferenza con Don Giuseppe Costa che è appunto l'editore delle librerie Edizioni Vaticane e si parlerà di informazione, cultura e religione. A dopo. Buongiorno sono con Don Giuseppe Costa, il direttore delle librerie Edizioni Vaticane perché oggi qui a Catania si svolgerà un convegno molto importante qui si parla di informazione, cultura e religione. È possibile questo connubio? Beh, certamente deve essere possibile e oltre possibile per la natura stessa dell'informazione, della cultura e della religione. Religione significa amore, amore verso il Dio, qualcosa superiore a noi ma purtroppo la storia in questo periodo ci insegna qualcosa di diverso. Ma di diverso che è soltanto un aspetto. I media oggi sono chiamati a dare un'informazione più ampia, un'informazione più dettagliata, più precisa per far capire che dietro alcuni conflitti c'è la società, non c'è la religione. Vengono prima i conflitti denunziati dai media o i media denunziano i conflitti che sono nella società. Io penso che la risposta vada trovata nel secondo interrogativo. L'informazione per essere caratterizzata come religiosa, quale caratteristiche deve avere? Ma direi oggi nessuno perché il concetto di religione si è evoluto soprattutto dal dopo, dal Concilio Vaticano II. Oggi la religione la si trova dappertutto, la si trova in politica, la si trova nell'economia, la si trova nell'aiuto del prossimo, c'è tutta una dimensione sociale e politica che è ispirata dalla religione. Quindi occuparsi di religione oggi è un fatto normale. In Italia purtroppo c'è una sorta di peccato originale nei confronti della religione intesa come qualcosa di sacrale, qualcosa di limitato che fa parte, diciamo così, della Chiesa, che fa parte del clero. Quindi in Italia mancano ad esempio le facoltà di teologia nelle università statali perché non furono tolte con l'unità d'Italia e non sono state più rimesse. Mentre in Germania è possibile trovare le facoltà di teologia come negli Stati Uniti, all'Università di Harvard ad esempio, c'è un ricchissimo dal punto di vista culturale dipartimento di scienze religiose. Cultura significa amore, religione significa amore e poi? Cultura è un termine equivoco intanto perché bisogna vedere di che tipo di cultura stiamo parlando. Se noi parliamo di umanesimo allora il dialogo è possibile e qui i media hanno il grande compito di fare quel che hanno fatto con le democrazie. Si tratta di ripigliare un giornalismo critico, un giornalismo attento, un giornalismo watchdog non soltanto nei confronti delle democrazie ma anche nei confronti della verità di certe realtà. Grazie. Prego, grazie a voi. Sono con la collega e docente universitaria Maria Lombardo. Cosa significa insegnare giornalismo ai giovani? Beh allora intanto è un insegnamento che in qualche modo ci siamo inventati, quelli che abbiamo iniziato a tenere queste discipline perché quando si è cominciato a insegnare giornalismo nelle università non c'erano docenti preparati, diciamo adeguati, anche se preparatissimi e pieni di pubblicazioni in altri campi. Allora siamo stati chiamati alcuni giornalisti. E quindi ce lo siamo inventato partendo dall'esperienza concreta che è l'esperienza sul campo che è quello che più affascina e colpisce i giovani ed è questa grande curiosità. Nel caso del giornalismo culturale io comincio con l'illustrare il concetto di cultura perché come diceva, dice anche Don Costa in questa intervista, cultura, bisogna intendersi cosa si intende per cultura. E poi analizziamo il giornalismo culturale sotto diversi aspetti, cioè le fonti delle notizie ma anche l'utilizzazione di queste notizie, la selezione delle notizie, insomma quelli che sono poi i concetti base del giornalismo partendo dalla premessa che i giovani oggi si documentano sui social media ma non si documentano sui giornali e quindi cerchiamo anche di fare un'opera di alfabetizzazione alla lettura dei giornali. Oggi il giornalismo ha subito comunque una trasformazione. Prima c'era la carta stampata, ora c'è l'online. La carta stampata è solo per l'approfondimento ma avere una facoltà che sforna giornalisti per un futuro, per cosa? Beh, intanto una formazione professionale è necessaria. Una volta la si acquisiva sul campo, come il caso mio, io sono laureata in lettere, il giornalismo l'ho imparato sul campo. Però, ecco, certamente il mercato cambia e speriamo che riprenda a dare spazio all'informazione perché senza informazione non c'è democrazia. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!